buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 4 aprile 2024 procediamo subito con l'almanacco del giorno vi dico che oggi si festeggia sant'esidoro di siviglia vescovo di siviglia ebbene nato a cartagena tra il sesto e il settimo secolo da nobile famiglia che era imparentata addirittura con la casa reale ebbene era una famiglia seppur nobile e quindi aveva molte disponibilità finanziarie una famiglia molto molto pia per quanto riguarda la religione pensate tutti e quattro figli furono considerati santi furono eletti santi ed erano santi isidoro che poi appunto è diventato vescovo di siviglia e poi ancora santa leandro san furgenzio e santa fiorentina isidoro è considerato padre della chiesa di spagna fu l'anima dei concili del suo tempo si impegnò molto per la conversione dei visigoti e scritte opere che ancora oggi sono fondamentali per appunto la liturgia e per la fede della chiesa cattolica dunque santi isidoro è un nome che ancora oggi si perpetua quindi facciamo gli auguri a chi porta questo nome ed ora passiamo alle previsioni del tempo e diciamo subito che il tempo oggi a faro resterà stabile eccola qua la cartina delle marche un tempo stabile solleggiato saranno pochi nubi in passaggio nel corso della giornata i venti sono deboli moderati e da est sud est sulle coste e da ovest sud ovest nell'entroterra le massime le massime si aggireranno tra i 18 e 23 gradi la minima è stata di 11 gradi e le temperature sono un po in calo il mare è calmo oppure appena appena leggermente mosso ma insomma un mare una bella tavola questa mattina l'alba era splendida perché non c'erano nuvole in cielo e vedere il sole sorgere sul mare è veramente un grande grande spettacolo e allora passiamo alle letture dei giornali questa mattina vediamo l'apertura sul corriere adriatico per quanto riguarda Fano e vediamo un episodio di cronaca giudiziaria e riportato anche sul resto del Carlino ebbene ieri si è svolta un'altra udienza del processo contro l'assassino di Anastasia la ragazza ucraina che aveva scelto Fano come sua città di elezione era venuta qui con la famiglia e con il suo bambino però è stata uccisa dopo una violentalite dal suo marito un egiziano che ora è in carcere ebbene dopo la ricostruzione in seguito alle domande che sono state fatte durante l'udienza nella ricostruzione di quanto avvenuto si è capito che Anastasia ha cercato di difendersi perché ha avuto tante tante coltellate pensate 29 coltellate al collo al torace all'addome al dorso e agli arti anche alle mani ha cercato di difendersi e anche sulle mani dell'assassino il marito Amrallah Mostafa Alashri sono state trovate ferite perché anche lui poi nella furia si è ferito con la lama del coltello e dunque ieri in una nuova udienza davanti alla corte d'assise di Pesaro per il processo a carico di questa persona ha lottato e combattuto contro il marito che l'ha coltellata a morte ieri nuova udienza ovviamente ancora non siamo al momento della sentenza ci sarà una prossima udienza prossima il 24 aprile e toccherà alla madre di Anastasia di fornire la sua testimonianza e probabilmente la posizione dell'imputato verrà aggravata perché la madre ha ancora altre vicende da chiarire insomma da testimoniare e quindi insomma la situazione è tutta in evoluzione vediamo anche qui la fotonotizia pubblicata dal Corriere Adriatico è stato inaugurato sul muro della chiesa di Ponte Metauro il murale che ricorda il compianto parroco Don Gualfardo tutto questo è avvenuto durante la festa del Ponte il martedì scorso la seconda festa di Pasqua dopo quella dell'angelo ed è stata veramente una bella festa e poi il volto di Don Gualfardo sorridente in mezzo a tutte le cose che lui ha realizzato e anche in mezzo ai suoi parrocchiani il coro della chiesa, la pandolfaccia tutti coloro che si sono raccolti accanto a lui insomma è una bella testimonianza che rimane lì alla luce di tutti ed è bello perché lo spettacolo di Ponte Metauro è anche uno spettacolo di carattere ambientale molto molto bello ed ora passiamo alla cronaca passiamo alla cronaca perché ci sono degli strasci per quanto avvenuto sabato scorso in pieno centro la storico nei pressi di piazza Andrea Costa dove due gruppi si sono così confrontati un gruppo di egiziani e un gruppo di marocchini Ser Filippi più vigili nelle zone calde e il candidato sindaco del centrodestra Ser Filippi che rivendica ancora più vigilanza in centro storico il centrodestra chiede un giro di vite il candidato sindaco incalza l'attuale sindaco Massimo Seri dopo la violenta aggressione di sabato in centro storico la polizia locale ha detto dovrebbe garantire una maggior presidio nelle zone calde della città probabilmente si riferisce ai vigili urbani che oltre al controllo del traffico possono anche essere un elemento coadiuvante alle altre forze dell'ordine carabinieri e polizia sono i maggiori responsabili della tenuta dell'ordine pubblico per cercare di rendere più tranquilla la situazione ebbene il centrodestra fanese torna sull'aggressione di sabato scorso all'angolo tra via Arco d'Augusto e piazza Andrea Costa tra due gruppi di giovani extracomunicari ebbene a questo punto occorre dice Ser Filippi incentivare cioè assicurare più tranquillità più sicurezza piuttosto che così esprimere la propria riprovazione perché le foto di quanto avvenuto sono state pubblicate dai giornali insomma siamo tornati anche i giorni scorsi su questa questione e oggi la rivediamo ancora sui giornali intanto la polizia prosegue nelle sue indagini e ieri è andato nella casa dell'egiziano e lo ha individuato, lo ha preso e sono state trovate anche dei grammi di droga di hashish all'interno dell'abitazione che il diretto interessato dice che erano per uso personale sono stati trovati anche 700 euro che lui dice che è frutto di una donazione di un parente ma insomma gli inquirenti sospettano qualcos'altro ed ora passiamo invece alla questione sociale agli anziani in modo particolare ambiti sociali 6 e 7 sono da unire è la richiesta del dirigente dell'ACLI Maurizio Tomassini che segnala i vantaggi dell'operazione anche nella prospettiva dell'azienda sanitaria pubblica quella che dovrebbe così sostituire un po' è una riforma in atto l'ambito sociale senza perdere altro tempo bisogna subito attivare un confronto tra i comuni della TS 6 e 7 in modo che ci sia anche una uniformità di intenti per quanto riguarda poi tutti i servizi di carattere sanitario e in questa settimana si profilano due interessanti sedute del Consiglio Comunale ormai siamo agli sgoccioli dell'attività della civica assise perché poi il Consiglio Comunale deve interrompersi prima che si si avvicini alla data delle elezioni e quindi ci sono corpose delibere che vengono presentate in ultima istanza e in queste due sedute che sono state programmate ci sono nuovi ingressi in Consiglio ci sono dei dimissionari uno è Paolo Giovanni Clini scusate che per impegni di studio ormai viene trattenuto a Milano che viene sostituito da Tommaso Bittoni Tommaso Bittoni non è il primo dei non eletti ma dopo che hanno rinunciato Umberto Battista e Andrea Di Tommaso che seguivano nella graduatoria spetterà a lui occupare lo scanno di Giovanni Clini e poi c'è anche un avvicendamento all'interno del gruppo consigliare della Lega Marianna Magrini che sappiamo che non si ripresenta nella prossima tornata amministrativa cederà il suo posto a Mario Alberto Rinaldi e quindi anche lui avrà questo sprazzo di attività consigliare prima che poi il Consiglio Comunale decada e quindi si dia alla Giunta la possibilità di fare soltanto la ordinaria amministrazione vediamo ora le altre notizie c'è un incidente stradale che è accaduto a Colli del Metauro poco dopo le 12 di ieri un operaio pugliese di 46 anni è rimasto incastrato all'interno del suo furgone sul quale viaggiava il mezzo guidato da un collega dell'uomo che poi è rimasto ferito ha violentamente impattato su una fiancata contro un camion furgonato ebbene non si tratta però di un incidente molto grave l'inferito non è in pericolo di vita ed ora parliamo invece delle celebrazioni che Mondolfo si appresta ad organizzare sulla Abbazia di San Gervasio una bellissima chiesa paleocristiana molto antica ed è un esempio particolare dei primordi del cristianesimo nel nostro territorio torna la festa di San Gervasio nella chiesa paleocristiana il clou sabato prossimo ebbene ci saranno delle celebrazioni che ogni giorno alle 18.30 vedono la liturgia equaristica presieduta dall'arciprete di Santa Giustina che è Don Emanuele Lauretani sabato 6 aprile avranno il momento centrale con la solennità dedicata proprio a San Gervasio un santo che la tradizione locale vuole vissuto in epoca non precisata ci sono documenti precisi però a Mondolfo e che fece molti miracoli per le campagne come lo sgorgare di un'acqua curativa di una sorgente che ancora oggi viene utilizzata ed è una sorgente che si usa contro la scabbia e quindi una malattia che un tempo fa era frequente ora oggi un po' meno però insomma quando c'è lavarsi le mani su questa sorgente dovrebbe fare bene San Gervasio poi è sepolto in un bellissimo sarcofago di stile Ravennate che è custodito nella chiesa di San Gervasio vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla ancora del credito che 30 sfollati dall'alluvione vantano per quanto riguarda i sussidi alluvione ci sono ancora 30 sfollati chiesta la proroga per gli indennizi ulteriori sei mesi per i residenti nelle case da delocalizzare Olivetti il sindaco dice bisogna fare chiarezza bisogna soprattutto sostenere far sentire vicine le istituzioni a queste persone che sono state veramente colpite quando poi uno si vede la casa allagata e la casa inagibile veramente si trova in condizioni di estremo bisogno di aiuto ecco perché il sindaco interviene vediamo ora anche qualche notizia di Pesaro dove l'attenzione del giornale viene puntata sull'interquartieri e sul casellino di Santa Veneranda ecco il titolo interquartieri o casellino sul tavolo ci sono due opzioni per la sede dei pompieri ebbene anche la caserma dei vigili del fuoco di Pesaro che si trova lungo la statale 16 in un punto molto molto trafficato avrebbe bisogno di essere spostata così come la caserma dei vigili del fuoco di Fano per la quale da tempo da tempo si parla di spostamento era una caserma che doveva essere realizzata nella zona di Chiaruccia tutto era pronto il ministero aveva stanziato i soldi poi dopo la ditta ha detto no questi soldi non bastano più c'è stato anche una crescita di prezzi rilevante dopo il covid soprattutto dopo la guerra russo-ucraina ed ora bisogna rifare tutto l'appalto insomma i tempi si dilungano anche se il progetto è pronto la terra c'è insomma le cose però ristagnano allora ci sono due opzioni per la sede dei pompieri sono state individuate dal comune due possibili aree dove costruire la caserma dei vigili del fuoco allora una la si trova in una zona vicino all'interquartieri sul lato di via Toscana urbanisticamente già regolare e di proprietà del comune mentre l'altra zona è invece limitrofa all'area del futuro Casellino ha le stesse caratteristiche ma risulta logisticamente meno efficace allora si tratta di scegliere tra queste due aree vediamo un po' quella anche secondo i suggerimenti che provengono dai vigili del fuoco qual è quella migliore nella provincia di Pesaro Urbino che conta 360.000 residenti sono attivi quattro distaccamenti dei vigili del fuoco le sedi sono a Fano, Urbino, Macerata, Feltria e Cagli per questo il supporto del personale del comando provinciale è indispensabile quotidiano e non solo per gli eventi più complessi anche per le piccolezze perché i vigili del fuoco sono sempre molto molto disponibili per qualsiasi difficoltà che possa vantare un cittadino che chiede il loro aiuto ed ora passiamo ancora alle notizie di Pesaro si parla anche sulla localizzazione della nuova questura alla Cialdini insomma non è che viene considerato un posto molto idoneo dai candidati sindaco c'è un sondaggio che il Corriere Adriatico fa nei confronti di Andrea Biancani che è il candidato sindaco del centro-sinistra di Marco Lanzi del centro-destra e di Pia Perricci che fa parte del civismo nuova questura Biancani vuole tirare dritto con il piano di spostamento delle caserme ma per quanto riguarda Biancani lui dice che il mantenimento della questura in una zona centrale della città qual è quella delle caserme è importante Lanzi ricorda invece che dal 1998 si batte per realizzare la nuova questura Lanzi viene dalla polizia e quindi ha vissuto dal di dentro la situazione logistica della caserma ebbene anche per l'opzione attualmente sul tavolo uno spazio all'interno della caserma militare Cialdini nutre moltissimi dubbi Pia Perricci invece dice che lo spazio a disposizione nella caserma Cialdini non soddisfa nella maniera più assoluta le esigenze di riunione della questura quindi sono tutti i contrari per quanto riguarda la localizzazione della caserma Cialdini per ospitare la caserma dei vigili del fuoco e poi vediamo una figura molto nota è quella di Palmiro Ucchielli che una volta approvata la legge dice sono pronto ad affrontare un nuovo mandato e il terzo a sindaco del comune di Vallefoglia sono un combattente ha dichiarato pronto a lavorare per i miei cittadini ebbene inossidabile Palmiro Ucchielli che ha lavorato tanto in questi ultimi anni Rossini e Pedrotti teatri monumento ma io aggiungerei anche tanti altri teatri della provincia di Pesaro Urbino come Fano come Urbino come Cartoceto Macerata Feltria Mondavio Pergola San Costanzo San Lorenzo in Campo Sasso Corvaro Auditore Urbania e anche Urbino insomma sono veramente i teatri storici le marche sono piene di teatri ce ne sono tantissimi anche nelle piccole località sono piccoli teatri che però dimostrano come anche nelle località decentrate ci sia stato un movimento culturale che ha voluto un suo teatro per la rappresentazione di tanti spettacoli dalle opere liriche alle commedie alle farze agli incontri ebbene c'è una legge che è stata approvata alla Camera su iniziativa di Giorgia Latini che tra l'altro è segretaria di Lega Marche la prima firmataria di questa nuova legge è stata lei che evidenzia come 13 teatri della provincia di Pesaro Urbino entrano di diritto tra i monumenti di interesse storico e architettonico appunto italiani e chissà che non ci siano un pochino più di finanziamenti entrando in questa lista questo bisognerà appurarlo e poi vediamo l'articolo di un altro processo è quello che si è svolto contro un 19enne che ha rapinato un benzinaio ha patteggiato tre anni e due mesi il ragazzo è già in carcere era uno dei bulli di piazza Redi rapina in scooter al benzinaio attimi di paura e di violenza ieri davanti al giudice il patteggiamento per un 19enne un ragazzo italo-brasiliano già noto come membro della baby gang a suo tempo insomma era ancora baby adesso 19 anni non lo è non lo è più passiamo ora al resto del Carlino e parliamo ancora della carnevalesca perché ci sono altri dettagli per quanto riguarda la situazione finanziaria dell'ente nell'annunciare le sue dimissioni Maria Flora Gian Marioli aveva menzionato un debito un ammanco di 50.000 euro relativi al provvedimento che il ministro Franceschini aveva fatto revocando i soldi contributi ai tè ai carnevali di interesse storico in realtà i soldi che mancano sono di più sono altri 50.000 euro per quanto riguarda il bilancio Gian Marioli ha confermato ieri un rosso di 100.000 euro e altri soldi altri 40.000 euro vengono così evidenziati da Alessandra Patregnani che è un po' quella che gestisce i conti all'interno della carnevalesca quindi Maria Flora Gian Marioli lascia la carnevalesca con un debito di 140.000 euro ebbene questo fa un po' discutere vediamo infatti un intervento del vice sindaco Fanesi che dice che evidenzia dubbi sulla opportunità di lasciare la carnevalesca con dei debiti ovviamente tutti sono liberissimi di farlo perché non è che uno è condannato a essere presidente della carnevalesca però lasciare l'ente in questo modo è inopportuno dice il vice sindaco poi abbiamo anche una presa di posizione dell'assessore al turismo Etienne Lucarelli che vuole fare chiarezza in merito alla situazione interna del consiglio della carnevalesca dopo le dimissioni del presidente Maria Flora Gian Marioli e del vice presidente Stefano Mirisola vuole sapere perché il comune finanzia l'ente con 130 mila euro e quindi vuole sapere che cosa accadrà d'ora in avanti soprattutto quando si rimetterà in sesto tutto quello che il vuoto è risultato dalle dimissioni dei due elementi apicali Anastasia fendenti pure sulle mani e il marito ha cancellato tutti i messaggi dal telefonino udienza a Pesaro per il femminicidio della 23enne Ucraina uccisa a coltellate il 13 novembre del 2022 e poi lo cercano per la rissa gli trovano la droga anche il resto del carlino interviene sull'individuazione sul fermo dell'egiziano che è stato l'artefice protagonista della rissa di sabato scorso in piazza Andrea Costa giriamo ancora la pagina e vediamo una protesta di due residenti che ieri nel momento in cui si è riunita la commissione in preparazione delle nuove sedute del consiglio comunale hanno elevato dei cartelli protestando contro le industrie insalubri all'ex zuccherificio alcune residenti hanno mostrato cartelli durante la presentazione delle osservazioni al piano regolatore generale sappiamo però come i controlli le indagini che gli organi competenti hanno fatto su questa industria non hanno rilevato problemi tutto si è svolto nel limite della legge e poi nasce una nuova associazione di familiari e per quanto riguarda l'autismo è un problema che purtroppo investe sempre più famiglie ed è veramente un problema non solo di ordine sanitario ma anche un problema di ordine sociale Michele Silvestroni papà di un 12enne si tratta di Riccardo a fianco delle famiglie sarò un facilitatore ha dichiarato nasce così la nuova associazione una nuova associazione di supporto alle altre realtà già esistenti nel nostro territorio come Onfalos che è l'associazione storica che opera già da tempo nella città di Fano tamponamento uomo incastrato nel furgone è successo a mezzagiorno in superstrada vicino allo svincolo di Calcinelli scontro con un camion arriva l'eliambulanza traffico in direzione Montemare è stato interrotto per pochi minuti tutto entrato normale dopo un'ora questo per quanto riguarda quello che è accaduto ieri in superstrada e poi a Urbino si è parlato diffusamente della Brest Unit in seguito delle osservazioni fatte dalla opposizione ebbene il sindaco Gambini e l'assessore alla sanità Elisabetta Foschi dicono che a Urbino la Brest Unit non si tocca e con questa notizia noi terminiamo la nostra segna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani grazie per l'ascolto e a risentirci